Obbligo del Green Pass, ovvero la certificazione verde da domani per tutti i treni ad alta velocità, cioè le frecce di Trenitalia e Italo. Niente obbligo invece per i treni regionali, anche se fanno servizio tra regioni diverse. La capienza sarà dell'80% sia in zona bianca sia in quella gialla. Fino a oggi è stata del 50%, unica eccezione per i treni di Italo che viaggiano a capienza massima perché sono dotati di filtri speciali come quelli degli aerei che garantiscono un ricambio continuo e completo dell'aria. È obbligatorio avere sempre la mascherina chirurgica o la FFP2, tranne quando si mangia o si beve al proprio posto senza alzarsi. La verifica avverrà direttamente a bordo. Il controllore potrà chiedere non solo il biglietto ma anche il Green Pass. Chi non ne sarà provvisto verrà inviato a scendere alla stazione più vicina, sarà multato per violazione delle regole di bordo e nel frattempo verrà isolato in uno spazio adibito a bordo e ad attendere la terra ci sarà la polizia ferroviaria che lo multerà per la seconda volta. Il passeggero senza Green Pass verrà accusato di aver dichiarato il falso. Dal 25 agosto infatti alla prenotazione bisogna dichiarare di avere la certificazione verde. Da domani il Green Pass diventa obbligatorio anche per i voli nazionali, per i voli internazionali lo era già. Ma una sola dose di vaccino non basta per viaggiare in Europa, in Italia invece sì. Fuori dall'Unione Europea invece le regole cambiano da stato a stato. Così da domani per viaggiare in Italia servirà aver ricevuto almeno una dose di vaccino, essere guariti oppure avere il certificato di tampone negativo fatto nelle 48 ore precedenti. Sugli aerei la capienza del 100% ed è richiesta la mascherina chirurgica o la FFP2. Niente certificato verde per i mezzi del trasporto pubblico locale, intanto dovrebbe tornare la figura del controllore che garantirà sui mezzi del trasporto pubblico il rispetto delle regole, quindi mascherine obbligatorie e distanziamento sociale, evitando anche gli assembramenti. La capienza sarà dell'80% sia in zona bianca che in quella gialla. Il resto è il nodo dei lavoratori dei trasporti come Hostess e Capotreno, per i quali non è previsto l'obbligo del Green Pass, a differenza dei passeggeri. Da domani obbligo anche per viaggiare su navi e traghetti che fanno trasporto interregionale. Intanto per domani sono previste proteste nelle stazioni anche in Toscana, tra cui Firenze, contro l'obbligo del Green Pass. Sicuramente non mancheranno i disagi. Sicuramente non mancheranno i ragazzi.